Mi chiamo Caos Piasighi, vengo dal Senegal, sono il presidente dell'associazione Niofar. Niofar è un'associazione che si occupa della promozione della cultura senegalese e tendiamo a far conoscere la nostra cultura alla popolazione autoctona perché crediamo che essendo qui ci arricchiamo, far conosciamo la cultura degli altri e quindi sentiamo in un certo senso detto il dovere di far conoscere la nostra pure agli altri. Le principali attività che portiamo avanti sono un corso di wall-off che è dedicato alla popolazione o ai cittadini autoctono che abbiano l'intenzione di interagire con la comunità straniera, ovvero con la comunità senegalese e uno sportello Infopoint che è uno sportello che dà l'informazione legale, sul supporto legale per come cercare un lavoro e vari e tanti altri. È un corso di ballo che forza che facciamo pure e poi un'attività di sensibilizzazione sulla tema dell'immigrazione nelle scuole superiore. Queste sono le principali attività che portiamo avanti da anni.